oh no 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 sono tornato adesso sono tornato adesso no ma sei contento fa una risatina fa una risatina fa una risatina no 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 guarda si è anche guarito l'orecchia fa vedere mamma mia che spettacolo questo è il miracolo questo è il miracolo ti ricordi che bolla che avevi? ma io sono uno miracolato è certo ti ho fatto io tutta una cosa miracolosa capito? non mi hai fatto niente perché quando ti tengo i capelli fermati guarda quanto è contento e dammi un bacetto meglio 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 ma vuoi già fare un culo? oh così il bacetto che mi piace è questo da me guarda mamma mia quanto sei bellino guarda qui c'ho la trippa e che c'è sta sotto la trippa? boh che c'è sta? guarda dentro sotto che c'è? e niente qui c'ho la maglia sotto che c'è il cincilla fermate porca maglia che c'è? che c'è sotto? che mi fai male? che c'è? il cazzo c'ho che c'ho? bella oggi è la madonna eh ma la madonna come com'è la madonna? è la concezione di che? della madonna perché? perché aveva detto che doveva avere un bambino ma chi? come ha fatto ad avere bambino? oh Sergio va via che ti danno la sediata va via va via come ha fatto? va via va a leggere se lies si! oh no ma il famo il presepino? lascio mi oh lasciami via Federico io non mi fa incazzare ma il presepino il famo? no perché? perché non vuoi niente ma non sei contento? no non vuoi fare niente che ne pensi del presepino? come le pinze si tagliano qui? no ma che coglione! il precepino bisogna farlo no? e lì c'è le pinze c'è le pinze? le pizze? le pizze? provaci a tagliarle provaci tu te si provaci, ti stai capace? ecco tu ah! fai il furbetto eh? questo è un furbice da potato ma levamoli tutti sti santi la questo è il porto via nonna, porto via dai no! porto via! e padre... levelo buttalo via no ma buttalo via santobaldo no 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 santobaldo no pensavo questo ma levelo parastinco levelo no levelo 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 chi? chi è matto? e anche santobaldo era matto? e beh sono allegri i gubbini e beh è vero viva gubbio questa zitta è una radio ma chi? 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 lui invece può urlare è vero? lui può urlare? ma... l'hai rotto e sta perso mannaggia la mamma oh! ah! ah! e ma beh! mi è venuto via ogni cosa a riscoperti mi viene a... cosa? ah! tanto si mi mira mentre scanto na 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 oh no com'è sto balletto? che fa nonna? ma che cosa si vuole? eh? è tutta? è tutta è tutta ma... come faceva la tua mamma? non è più vecchio se non balle più infatti c'è ragione eh! quindi non tocca più allo vecchio o vecchia eh? e noi ci vuole giovani ma se uno è giovane quell'altro è vecchio se uno è vecchio quell'altro è giovane certo eh! come facciamo allora? come tocca a f*** la più giovane io ero la più giovane? quanto? eh! almeno 15 anni meno uh! 15 anni meno così mi armettono eh! diretto proprio mi armettono che stai a fare? e baffanculo va! ma che stai a fare? ma che stai a fare? e dopo che fai? ma camina che fai dopo? che fai dopo? no! le minacce no eh! che fai gli scatoli controllando una scatola dove domani avverrà una cosa bellissima stiamo preparando per fare il presepino oh ma non di dove lo voglio fare ma secondo te si incazza? secondo me si beh quanto? eh! però è un bel posto vero? si comodo bello eh! basta spoiler domani faremo il presepino e poi il video penso fine settimana uscirà non lo so però lo voglio cari iniziate a condividere con tutti che ci sarà il presepino epico quindi cercamo di essere carichi anche voi perché io sono super carico sto a scegliere i bucciotti del presepino e andrò a prendere anche qualcos'altro però voglio sentire lo voglio sentire voi se si rende conto ecco Babbo Drillo della gente che c'è in giro che già sta a correre per fare i regali negozi aperti lotto è festa rilassato porco cane tanti veri valori non sono quelli materiali sto Natale ma anche gli altri cioè cercamole se uno c'ha un paio di scarti in più o meno adesso adesso non conta un cazzo non conta un cazzo ma se uno c'ha qualcosa di più dentro è quello che fa la differenza quindi mamma mia è arrivato è arrivato nonno Natale si nonno Natale eh si mamma mia quanto sei bello eh è bello levato no un altro po' un altro po' non ho finito allora adesso te devi muovere un po' così si adesso me li muovo così come rimuovo no allora fa il babbo bene beh allora arfaglio no sta buono aspetta facciamo mentre scendi le scale no no come buonasera piccolo spoiler piccolissimo bella sorpresa sarà eh penso proprio di si speriamo adesso stiamo organizzando se volete lì da Roma guardate che spettacolo comunque stamattina stavo a Campiglio stasera sono dovuto venire a Roma perché sabato si fa festa sabato sabato è un evento importante bisogna festeggiare i nonni e sono venuto qua a vedere a sistemare delle cose poi Gianluca è un grande veramente numero uno ma poi sabato vedrete quello che combineremo però adesso ritorno a casa due orette di macchina ma ma le cose uno le fa se le vuole fa se no se c'ha quella cosa dentro capito che non so come dire è dura però se tu c'hai una spinta giusta e credi in qualcosa lo realizzi sempre raga sempre sempre anche se delle volte ci vuole un po' però avanti così ritirare la testera arrivederci ma vaffanculo va che stai facendo? quindi due donne due brucii sto guardando gli alberi natale senti qui l'erde con sti succe su ma il pennello si fammi venire a dormire con te e come no? dai no come no? fammi venire a dormire che l'erde di coglione fammi venire a dormire con te fammi venire a dormire con te no con chi ora dormi? va a dormire che una bella sorta ma come? e col pelo come? col pelo riccio e nero che allora che schifo che schifo è quella la bellezza venite a dire che è schifo? che schifo che schifo si lo schifo quando è pelato che schifo ma è schifo col pelo ma l'erde di voi fammi che non capite niente come non capite niente? niente niente è bello il pelo? eh certo ma perchè? si c'è nato tu voleva se vede che ci vuole io